Senti Mario, scusa, potresti fare il gioco della traversa? Senti Pino Battista, non pigliare per il culo, perché già lo so che tu sei come tutti gli altri tamari che mi fermano in giro per l'Italia a dire, eh ma secondo me lo monti, fai questo giochino, tu sei quello che riprende, ammettilo da dietro la telecamera che lo prendi. E allora io sono venuto a verificare che sia tutto vero, che davvero Mario Liso prende sempre la traversa, voglio vedere. Verrà Spadini ragazzi, da Sky Sport, qua non si scherza mica eh, e quindi mi tocca prenderla stavolta, non posso sbagliare ragazzi. Vediamo. E andiamo porca puttana, anche con le scarpe dell'infortunistica, e andiamo, bravo Miera, bravo. Ragazzi scusate ma io vado col mio premio partita, ciao a tutti. Questo è culo comunque. Eccoci.